Tutto nel mondo della politica, dove l'immagine è più importante della sostanza. Antonello Lai, il punto di vista. Il piccolo tiatrino che ci ha fatto vedere poco fa Andrea Azzoli d'Auristano, non è nient'altro che lo specchio dei tempi. Due persone che bisticciano, più attente forse alla forma, che non ha la sostanza quando si dovrebbe fare bene altre cose in un Consiglio Comunale come anche quello di Auristano. Ma non è solo Auristano e non sono soltanto Giuliano Uras e Maria Robino, ho dovuto scriverli perché chiedono costumi della sedia. Il discorso vale un po' dappertutto, anche nel nostro Parlamento, nel Ministero, dove tutte fanno grande sfoggio. Adesso che anche qualcuna più azzardata degli altri ha posto una mese dove la camiceta è bandita a favore di altre cose da poter indossare. Dicevamo, molto spesso colpisce di più la forma che non la sostanza. Diversamente accade, per esempio, nel Consiglio regionale di Cagliari, dove, per esempio, l'esponente dei 5 Stelle, Desiree Manca, fa sfoggio del suo del coltello. Ma lei lo fa in una maniera diversa, perché provate a fargliene un accenno. Vi risponderà tranquillamente. Io sono una donna, questo è il mio seno e da qua ho allattato i miei figli. Provate a dirgli no che non ha ragione. Arrivederci. Grazie. Grazie.